La questione carceraria resta sempre centrale nelle riflessioni sulla funzionalità del sistema giudiziario italiano, tra domanda di sicurezza sociale, richiesta di effettività della pena e necessità di trattamenti detentivi non contrari ai principi di umanità. Tematiche che misurano il senso etico di un popolo e il suo grado di civiltà, sebbene negli ultimi trent'anni questa materia sia stata influenzata da visioni ideologiche. Questione di cultura, non solo giudiziaria, perché l'evoluzione dell'opinione pubblica è serzato verso un concetto di applicazione della giustizia in senso esclusivamente punitivo, ovvero vendicativo, partendo da un'idea che immagina la presunzione di colpevolezza e non più di innocenza, per cui se sei garantista, sei ladro o comunque connivente con il malaffare, se non lo sei, invece sei un forcaiolo, un meccanismo perverso dove devi dimostrare non di non essere colpevole, ma di essere innocente. La Camera Penale di Fibo Valenzi ha pensato di avviare un dibattito su queste tematiche, mettendo a confronto avvocati, magistrati, giornalisti. Noi abbiamo affrontato diverse volte su questi temi. Questo è uno dei temi che difficilmente trova riscontro un po' nella sensibilità dell'opinione pubblica, perché gli ultimi, io li definisco così, gente che ha sbagliato, sicuramente ha sbagliato, vengono nascosti, vengono chiusi e quindi ci si dimentica di loro e ci si dimentica del fatto che poi debbono uscire, riuscire dal carcere e quindi in quel momento poi poi avrà gente che si ritrova a dover reinserirsi senza appunto l'aiuto dello Stato e quindi con le enormi difficoltà che la situazione impone. Presente anche Luca Muglia, garante dei detenuti in Calabria, l'aspetto più interessante è l'aver coinvolto l'associazione Nessuno Tocchi Caino, lega internazionale di cittadini e di parlamentari che da 30 anni si interessa delle problematiche drammaticamente esistenti nelle carceri. Presenti i vertici nazionali di Nessuno Tocchi Caino, l'occasione del dibattito ha fornito l'opportunità di una visita informativa e dispettiva anche nella casa circondariale di Vibo Valencia. In Italia c'è una condizione strutturale dei nostri istituti penitenziari che è veramente drammatica. Qui in Calabria forse è più drammatica che in altre parti e soprattutto per quel che riguarda la sanità penitenziaria perché i problemi che ci sono fuori e dentro si moltiplicano. Abbiamo notato un miglioramento per quel che riguarda il carcere di Catanzaro dove c'è un buon dirigente sanitario che sta cercando di ristrutturare il centro clinico oggi chiamato servizio di assistenza intensificata. Però per il resto ci sono veramente notevoli carenze, mancano i medici, mancano gli psichiatri per cui situazioni di malati seri sono completamente trascurate. Lo stesso abbiamo verificato questa mattina a Vibo, anche se devo dire che il carcere di Vibo Valencia che io visito da tanti anni, mi ricordo diversi anni fa lo definì Guantanamo, sicuramente è migliorato rispetto ad allora, anche se ci sono le criticità che sono strutturali negli istituti penitenziari italiani, quindi poche possibilità di riabilitazione oltre al problema sanitario che è veramente serio e che ci è stato spiegato nel dettaglio stamattina dai medici presenti.